11. Sostituzione del membro della Commissione Comunale Ambiente. Chi è che si è dimesso qua? Sempre la stessa questione. Castelnuovo libera. Si è dimesso Gianni Marconi ed entra Nadia Vassallo. Quindi, immediata esecutività della Commissione Urbanistica. Chi è d'accordo? Grazie. Commissione Ambiente. Chi è d'accordo? Sostituzione Gianni Marconi con Nadia Vassallo. Immediata esecutività. Unanimità. Perfetto.